salve a tutti benvenuti porca miseria benvenuti a una puntata di questa serie su questa nuova serie la prima puntata di questa serie su no rest for the wicked il gioco ci sono anticipato però tutti ne parlano come di un grandissimo gioco meraviglioso gothi ecc 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 sto vedendo questo gioco esaltato veramente come poche cose al mondo e se è così allora proviamolo facendo parlare tanto vediamo creiamo un personaggio che personaggio creiamo sono un po sformati però ok e allora che cosa posso non so non so viene in mente perché poi io ho le mie cose allora facciamolo maschio un po come possiamo fammi dove vado a ispirazione non lo so qualcosa mi deve dire qualcosa non so un po no diamo un po inserisci il nome mi interisci il tuo nome ora scusate forse non mi vedete per un po ma è solo inserisci teo 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 aspetta dietro dietro c'è un'idea aspetta dietro tu tu sarai Renzi Matteo Renzi Matteo Renzi ok vediamo se riusciamo a fare dai Matteo Renzi già me lo vedo lui che in realtà non si vede più in politica nel Parlamento italiano perché in questo mondo a cercare a cercare a cercare a cercare non ha più un elettorato se lo cerca in giro per mondi fantasiosi e quindi e quindi e quindi andiamo allora quindi personalizziamo personalizziamo allora i capelli capelli vediamo conciatura questo potrebbe essere un po io sto cercando una conciatura che potrebbe e no una conciatura renziana no beh questo però aspetta oh dai eccolo eccolo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo è lui è già è già lui è già lui eccetto modifiche va bene per me è lui non gli somiglia precisamente però per me è lui per me è lui crea seleziona un reame che reame allora dai un nome al reame il reame di Matteo Renzi come era si chiamava il suo partito come si chiamava i i Italia Viva credo si chiamasse no Italia Viva ecco questo è il suo reale il reame di Italia Viva dai ok salve gli ultimi anni abbiamo dato tutto per creare un'esperienza a rpg di livello superiore speriamo in questo video a spingere in una nuova direzione il lancio del teatro di segna una nuova era per noi in un studio siamo grati di averti al nostro fianco questo viaggio apprezziamo mente il tuo feedback il tuo aiuto e perfezionare il gioco in vista della sua versione 1.0 preparati è un'avventura che combattiamo in strategie viscerali ma ricorda che i lavori sono tutt'altro determinati tutto pronto è ora per fare l'ottaverso verso sacra va bene va bene da me ricordati che i lavori non sono diserati un interno e questo mi sa di classico diciamo modo per mettersi mettere mani avanti per non dire il gioco è bugato a merda va bene però magari mi sbaglio vediamo un po' ok ok il mondo è andato a ogni gioco di questo genere comincia con il mondo che è andato a fanculo non puoi iniziare con va tutto bene, tutto a posto inizia con il mondo che è andato a fanculo per un motivo X che è quasi sempre una maledizione una piaga, una maledizione c'è tanta fantastica in questo genere di giochi però in questo mondo andato a fanculo sopravvivono 5 cambiati ok 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 si muoviti ah eccolo Matteo Renzi stiamo ok ok in maniera Cerim qua si corre con questo si danno i pugni questo potere bestiale no non c'è nessun potere bestiale no ok ok stiamo di qua puoi scattare perché non premuto A ora non ci possono altri che non si uscire ok stiamo che tutti quanti una grande considerazione di non sto Matteo Renzi è qua 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 bene dobra aspetta ma qua si può entra no ok per farvi aprire la porta questa porta va bene arrampichiamoci ok ah ok qua c'è il puntino i pips avevamo per parlare oh ok ma ah ah bene ok ah bene e oh quindi andiamo su sulle scatole un po' tutti benissimo ottimo ok ok io probabilmente mi so spraccellato a terra così per niente mamma andiamo di qua qua prendi prendi ok ok Allora, qui non c'è il possesso di su, ti attacca con X, ok, Y per accogliere, mangia, oh, Ah, perché io ho fatto tre volte per mangiare cose, ma, ah, c'è ogni otto, c'è il cooldown pure per mangiare, c'è davvero, il cooldown per mangiare, ok, Stuttering Per fare Veramente mi mancava il cooldown per mangiare, onestamente, una cosa che non ho mai sentito, mi pare una mezza cavolo, mi pare un po' Essere onestamente una mezza cavolata, proprio per essere argentini, però Ok Ok, per sfisciare Ok Sì Vabbè, ah, devo contare di quale fa il giro Mi piace Vabbè Stiamo in giro, vediamo Sempre Y per sfisciare Aspetta un attimo, eh Vieni a parlare con te A me raccogliere cose Eh Oh, mo, mo arrivo, eh Bello Ok Bene Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo Ok Mi fanno tutti il saluto Ora arrivo Sto l'altro sotto riposa per l'anno Aspetta Ora arrivo Ora arrivo Sto rompendo tutte le cose Perché magari ci sarà qualcosa E può servirmi dopo Ok Sto rompendo tutte le cose Però Nessuno dice niente Sto rompendo i barili a pugni Bene Poi Ok Allora quello la C'è una roba qui Colto il bottino Una moneta Trova il tuo alloggio sotto Ok Aspetta un attimo Dai Servito Ok Ok Ah Suppa di funghi Hai ottenuto del cibo Generalmente Degna salute Mangia Da me Ok C'è Vabbè Sono al tuo alloggio Ok Salve Ok Dimmi Ok Ok Ma se Minchia simpatia Allora Te Ok Bene Ok Qua E questo è il mio alloggio Y Per andare a dormire E va Dormiamo Ok 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 Me sa che Uh Ho capito Ho capito Ok Palla incrostata Inventario Apri Il selettore Per menù Scorciato Inventario Ok Va bene Allora Inventario Ok 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 Lo scudo è il repli Sì Lo riduco Manco lo evito Lo riduco E qui che cazzo mi serve lo scudo? Ah Se non Vado Pappa Ok Ok Ah li ho sbagliato tasto Va bene Ok Va Ok Sì Ok Prendo monete Va bene Quella spada Le cose sta tagliate Va bene Ma Non c'è niente C'è proprio niente Niente Bordè Allora E allora devo andare di là Per forzare le cose Lo scudo Scatto Per saltare Brevi distanze Ah Vabbè Ah ok Salta in automatico Scattando Ok 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 calma No Là c'è un oggetto Vorrei poterci arrivare In qualche maniera Ok Qua ce l'ha No Qua è quello che ho ammazzato Prima Fica Tech golf Fica Va bene Allora Calma Ma come dovrei arrivare Allora Allora Ok 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 Allora Brevi distanza Bene Bene Allora Allora Per rampicare Sono al getto Allora Ok E quindi Come Fina il muro accanto a qua Per si scioglie L'uva la parecchia Ah ok Ah ok Quindi facendo così Si striscia lungo la parecchia Puoi strisciare Vabbè Nemici Vulnerabili Sbilancia un nemico E fai Le armi Infliggono danni Equilibrio Riempendo Indicatore Equilibrio Ok Sbilanciato Un nemico Diventrà sbilanciato L'alternativa Puoi sbilanciare Un nemico E Spara LT Sparando Dopo quando sa per arrivare Il segno LT Death Trigger Ok Ah E il perro Y Salve Merda Vai Ok Parca Porca miseria Però Ok Poi Ok Andato Chiara vigore piccola Tutto un oggetto rapido Gli oggetti rapido Mi finiscono diversi bonus utili Uso oggetto rapido Che si fa? E quindi Vabbè Vabbè Allora Sì Sì Soggetto rapido Non mi serve Bellissimo Sto oggetto rapido Ottimo Mi è servito A tipo nulla Ma ok Importante Che uno lo sappia Allora Quindi Iniziamo Abbiamo Scoperto cose Prima cosa Parare inutile Perché ti fai danno uguale Seconda cosa Ah Ok Seconda cosa E Altrettanto inutile Vi avviciniamo Ok Vi avvicino Vabbè Il perro E' difficilissimo Che proprio C'è tipo un frame Per la parata E non si capisce Quando è Mi sembra Ottimo Y Per aprire la porta Ho usato la chiave Del capitano Mi è andata alle spalle Una volta Puoi sfruttare L'evento Sovraggio Prendi i nemici Alle spalle E far appare Un'icona O che un attacco Alle spalle Muoviti fulminamente Per ridurre Proprio di farti notare Allora Porca Porca Allora Y Parliamo Pronto a combattere Come voi Non ci riesco Chiamo Vorto Sono Sei morto Ok Mi chiamo Vorto E sei Morto E Mi piace Qua Quante monetine Sto raccogliendo Allora E ora Dove devo andare Ok Bellissimo Usa una vigora Se la vigora Scende a zero Durante la strata Cadrai a terra Allora Un po' che succede Ah ok Saliamo C'è un po' di Stuttering Ok 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 Pony birda Ok 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 Poi che è reale E' un po' di più E' un po' di più Calma Ciao Calma E' un E' due Calma Va Ok Ok E' morti Vabbè Posto Ancora Ok Ok Vai Ok 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 Niente Maria Che confusionario Maria che confusionario E' che palle Ok E' una La mia gara per Prima Y per la prima Ok Vabbè D'attacca Mi curo Non ho finito Non ho finito la magnata Ok 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 Non riesco Qua Ok Ok Mamma mia Non si capisce Non vedo nulla Non vedo nulla Ok 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 Calma Oh Oh Porca miseria Ah Ok Minchia Aspetta Mamma mia Con vedo niente Ok 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 Niente Non Non interrompi L'attacco Poi Non interrompi L'attacco Manca a morire Ok 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 Che succede Ma ci andiamo a schiantare sul Ok 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 E qua ci dovevo schiantare giustai Ok isola ok va bene allora ma che succede? cos'è sto video? si bello vorrei capire cos'è però bello si salve ah questo è morto ok dovrebbe essere morto credo avviato così nonostante cose di sopra pregano prega quindi è vero il reino è morto 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 Ok 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 Hmm Ok 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 Eh Ok 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 Diciamo ho capito Diciamo Che è una pestinenza e la vuole risolvere Alla Salvini ecco Vabbè Io riuscirò ogni angolo di questi Ok Vabbè Sì Ah ok Faccio un corno E ci faccio E eccolo Matteo Salvini No Matteo Salvini scusate Matteo Renzi La sua nuova avventura No rest for Matteo Renzi Ricominciamo a prendere a pugni Pugniamo punghi Pugniamo cassa Pugniamo granchi Ok Allora Andiamo un po' là vedo cos'era raccogliere Parte fuggi Non è Speravo in un'arma onestamente Ok Arma Ho tenuto un attrezzo Io ti consento di raccogliere un'altra Ah Speravo fosse un'arma E no invece è un attrezzo E ok E va bene Bene Quindi Che si fa Qua Qua c'è niente Qua C'è una roba verde Che no Ok Perfetto Vabbè un'arma In chiaro vedo lascia Dai un'arma Lascia Come arma va bene No Pergranchi Inseguiamo adesso No Sta andando Mi attaccano loro E non li attacco Provo solo a vedere se Per qualche Pentesi motivo Ho una spada Mezzo alle robe Ma non c'è No spada For the wicked Funghi Accolgo funghi Accolgo funghi Accolgo funghi C'è il piccone Che è il piccax Ah Certo Ah Ok Qua c'è un albero Come si Ah Aspetta Inventario Scusa un attimo Ma Per intenderci No E' proprio E' niente Allora Ah Ok Ok Questa risorsa è esaurita Ah un pezzo di legno Da un albero Non finisce mai Un pezzo di legno Bene Oddio Ottimo Qua Tutti Morti male Non è E' un pezzo di legno 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 Mi la buttata Cosa bruca di insorti Allora, non riuscirete a sentire Il rinno, sì Sacro Abbiamo già detto di provare a raggiungere Ma ci ha avvertito che potrei incontrare Pedroni Pedroni ha attaccato la mappa Mostra la mappa Va bene Ok Aiuto Ah Mi sono perso una roba Però vabbè Qua Bastone Armi Ok, aspetta Abbiamo 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 un bastone Usa la concentrazione Rune e concentrazione Contenuazione accumulata Accantenando potere Rune Attacchi speciali e potenti Unipiare ogni arma Unipiare ogni arma Unipiare LPR Attiva una ruma Va bene Chiantesimi Pugni Pugni arma Lancio incantesimo Categoria di peto Pinta Capriola Capriola lenta Con spallata Allora Va bene Devo Il granchio non Mena Tutto diventa Ah Abbiamo 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 l'albero con l'ascia è un pezzo di praceri per cucinare i tors ottenuti ogni piatto ha effetto differente la maggior parte di igiene e salute va bene apro il forziere che mi da erba prendi tutto erba artemisia y per cucinare sul bracere e cucina va bene crea quanti ne posso fa? tre vai allora io boh signore io direi posso mi è finita il bar vabbè qua posso io direi un attimo sentito un pezzo di branchio a ferra il cavallo y per cucinare sul bracere posso ricetta che c'ho solo quella non c'ho nient'altro signore io direi io direi che per questa puntata è abbastanza abbiamo fatto un inizio siamo un attimo abbiamo inizio è trovato un po' più vabbè ma c'è stata presentazione e cose varie signori io direi che per oggi è tutto però si chiama la prossima io direi che per oggi è stato un po' più io direi che per oggi è stato un po' più è stato un po' più